Allora, serpente, dove visitiamo il parco nazionale di Yellowstone? Certamente. Noi siamo andati a prendere il treno della montagna perché ci siamo divertiti a fare la passeggiata, ok? Certo. Sono veramente stanco a riposo io. Cosa? Dai, alzati, devi svegliarti, è il mattino. Non sei grande io, tuo fratello? Certo, ok, so fare tuo fratello. Ah, va bene. Se ti comporti bene, farò benissimo. Allora, serpente, dove ci prendiamo a picnic? Certo, prendo i pop can? No, sono i tuoi del cinema. Ma scusa, serpente, ce la dobbiamo mettere il vulcano del picnic del pranzo. Prendi questo. Ah, hai ragione. Ok, allora è bene che da tutto guacchiamo. Ad esempio. Ahahah... AAAAAAAAAAAAAAA Seppente! Seppente! Avvoltoio! Fa qualcosa! Metti olè il vestito! Avanti! Ci sei quasi! Hai ragione? Certo! Vinci! Vinci dopo! Ok! Vieni! Shhh! Ah! Mmmh! Oh! Ah! Shhh! Tene nè! Ah! Shhh! Mmmh! Che si vede, amico? Mattafino incapace del toro! Ok! Ok! Seppente! Ora! Metti il sacchetto! E poi mangiamo! Mmmh! 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 Sono pieno! Oh! Oh! Ah! Oh! Ok! Bene sapete, adesso torniamo a casa e prendiamo l'aereo. Ok? Certo! Ehi! Tassi! Tassi! Entrate! Tsss! 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 Grazie a tutti